ciao a tutti gli amici di radici di vino oggi vi facciamo vedere la prova della vanga siamo in mezzo all'anfilare di vigneto a villa 20 azienda biologica certificata dal 2003 quindi sono suoli che non sono stati non hanno visto la chimica da tantissimi anni perché prima era terreno vergine e adesso siamo in un filare dove non c'è il sovescio e vi faremo vedere i confronti tra le gestioni differenti del terreno ciao a tutti la prova della vanga è una prova empirica che permette di fare delle semplici valutazioni ma molto efficaci si va fatta chiaramente in un periodo abbastanza preciso che è il momento di tempera quindi di solito si fa o a inizio autunno in primavera evitando il momento di massima bagnatura del suolo si procede con l'estrazione di una parte di suolo e poi un'analisi dello stesso la prima cosa che si fa è si osserva la resistenza del terreno alla penetrazione della vanga se avete notato qui con tre colpi è nata giù tutta la vanga poi si cerca di si tenta di ascoltare il suono che che fa il terreno quando si rompe quindi sono di radici di di terreno che si muove e qui possiamo per fortuna già valutare se no normalmente si dovrebbe diciamo spostarsi e fare un carottaggio da un'altra parte però qui il terreno è una bella struttura si può già iniziare a valutare chiaramente la prima cosa che osserviamo che questo è un suolo che è stato lavorato quindi presenta una buona granulometria l'aspetto iniziale è questo si può anche osservare il peso della della vangata quindi chiaramente questo va fatto facendo più carotaggi si può percepire se il suolo è più o meno areato la granulometria è una è una bella ha una buona microporosità il terreno è strutturato anche se presenta ancora delle delle macrozollosità poi si procede a diciamo sezionarlo osservando la forma degli agglomerati e la loro facilità alla rottura come si vede qui basta toccarli loro si sfaldano si controlla anche la compenetrazione delle radici adesso questo è un suolo appena lavorato come abbiamo detto quindi non c'è stato il sovescio quindi ci aspettiamo una minor quantità di radici si osservano le parti di sostanza organica in decomposizione vecchie radici parti di tralci e cose varie e si può osservare anche una stratigrafia del suolo qui come vediamo è molto uniforme il colore ottimo segno normalmente si vedono i primi centimetri molto più scuri e la parte più profonda meno colorata l'altra cosa che possiamo osservare è il modo con cui si rompono gli agglomerati come vedete appena si toccano esplodono si si frantumano in micro agglomerati questo è un ottimo segno di struttura questa è la parte dove la vang è andata a toccare e indica che il suolo si inizia a strutturare a livello batterico perché solo si struttura in due modi o tramite gli atmosferici quindi acqua sole ghiaccio no che frantumano i legami meccanici legami chimici che ci sono tra le sostanze minerali oppure tramite i batteri che fondamentalmente colonizzano il suolo e permettono alle radici di compenetrarlo quindi di creare una struttura che è molto più fine molto più stabile la cosa fondamentale è la stabilità in particolare della struttura microbica perché mentre quella diciamo atmosferica fatta con gli atmosferili tende a compattare a regredire il suolo il suolo strutturato microbiologicamente è un sistema evolutivo quindi migliora costantemente facciamo un'altra carotina qua di fianco va giù che è una cosa impressionante ecco qui si vede bene questa qui è una vangata a 30 cm a 30 cm vediamo che il suolo presenta radici finissime quindi vuol dire che sono radici viventi e questo esatto che esplorano il suolo e vedete come come sia questa granulometria meravigliosa questo è proprio il sinonimo che il terreno si sta strutturando in tutta la sua superficie in tutta la sua stratigrafia è il presupposto per avere una nutrizione corretta per le viti e soprattutto un apparato radicale funzionale che possa in qualche modo beneficiare del lavoro che facciamo con le lavorazioni e con i sovesci la differenza grande è che qua stiamo portando vita microbiologica in profondità esatto vedete come si sgrana come si sgrana cosa che normalmente invece è un terreno non ben strutturato quando si impallina fondamentalmente regredisce invece qui è ricco d'aria è compenetrato di aree di radici finissime ricche di peli radicali quindi è un suolo l'altro aspetto importante che è difficile da far vedere in video è mettere il naso dentro il suolo e valutare il profumo e deve fare un profumo di fungo di fungo di sottobosco di materia organica decomposta e questo ha un ha un odore che si avvicina ed è un odore ancora non è molto come posso dire non è molto intenso ma inizia a sentirsi questo odore di fungo ma soprattutto la cosa importante è che non ci siano odori sgradevoli perché gli odori sgradevoli tipo l'odore un po di fogna o di materia in putrefazione indica asfissia nella prova della vanga facciamo sempre anche il filare dove abbiamo seminato il suo vescio per controllare lo sviluppo radicale perché oltre alla massa superficiale che verrà trinciata incorporata nel terreno ci interessa anche valutare come queste piante si siano espresse a livello radicale quindi come al solito facciamo il principio lo stesso si fa una vangata si cerca di percepire un po il suono della vangata ok sono di radici che si strappano e poi procediamo all'osservazione possiamo notare come il terreno sia stato completamente colonizzato dalle radici come sia anche molto più scuro rispetto all'altro e come sia completamente friabile mettiamo il naso si sente un ottimo profumo di radice più fungo quindi vuol dire che il terreno è stato completamente invaso di radici che rimarranno nel suolo come massa organica possiamo poi valutare delle piante come hanno lavorato in che maniera hanno colonizzato il suolo l'hanno esplorato in particolare ci interessa bisogna valutare nella leguminosa la quantità di azotobacter che sono i simbionti della radice che fissano l'azoto atmosferico il favino è quello più ricco di questi azotofissatori possiamo vedere che ha un'ottima radice bella robusta e vediamo la presenza di questi tubercoli che sono gli azotofissatori vedete come ne è ricca chiaramente questi azotofissatori quando la pianta verrà terminata e viene diciamo interrata rimangono nel suolo e lentamente cedono degradandosi azoto il nutrimento che arriva dal suo vescio è un nutrimento di grande qualità per la pianta perché intanto è a lentissima cessione quindi la pianta lo diciamo che assorbe man mano che ne ha bisogno e sono soprattutto composti molto stabili non vengono dilavati e se non vengono consumati quest'anno rimangono disponibili nel terreno per l'annata successiva quindi è un modo per concimare estremamente efficace perché è azoto che dall'atmosfera viene reso organico passa attraverso un processo vitale e viene reso organico dai microrganismi che vivono all'interno di questi tubercoli il favino è tra le leguminose quella più ricca di tubercoli è quello che pissa più azoto fino a 300 kg a ettaro questo è un suo vescio plurispecie vedete che ci sono tantissime specie che si sono sviluppate quindi questo è ottimo per la biodiversità e per la sanità del suolo abbiamo il pisello abbiamo la veccia rucola foglio tenape più una parte di flora spontanea una multi floreale capite guardando questo tipo di suolo quanto sia importante soprattutto quando si è in una zona collinare come questa il fatto di avere un terreno così poroso perché tutta l'acqua che arriva dalle piogge invece che andare a erodere il terreno arriva in profondità e quindi diventa disponibile per le piante sia quelle annuali nel nostro sovescio che per le nostre viti e allo stesso tempo non abbiamo non abbiamo i danni da erosione spero che questo video possa esserti stato di aiuto ci vediamo il prossimo video e non dimenticare di mettere un like sul canale radici di vino così non ti perderai tutti i prossimi video riuscita ciao